Nella mia famiglia, i miei genitori sono entrambi a capo di un'impresa, perciò io dovrò lavorare duro se voglio essere come loro. È scontato! Perché invece non ti occupi del bar di famiglia, il Midoriya? Idiota! Non devi buttarti già a questo modo! Inoltre, non è forse vero che i tuoi voti sono migliori dei miei? Quindi se tu sei una buona nulla, io che dovrei dire, eh?